L'azienda US20 mette a disposizione dei cittadini una innovativa app gratuita grazie alla quale è possibile ricevere in tempo reale il suo proprio cellulare o tablet aggiornamenti sui servizi erogati, su eventi e iniziative in corso. Gong, questo è il nome della app che è gestita dalla società Box Apps, è compatibile con i diversi modelli di smartphone e tablet. La sua installazione è completamente gratuita così come il successivo utilizzo per usufruire di Gong è sufficiente scaricare sul proprio smartphone o tablet l'applicazione dei principali market o store dei sistemi operativi e installarla inserendo il proprio indirizzo e-mail o il comune di residenza. In alternativa è possibile puntare direttamente il cellulare o tablet su un QR inserito nei materiali informativi distribuiti tramite totem, locandine e cartoline nei principali punti di accesso della ULS20. Il 97% degli italiani posseggono un telefono cellulare e di questi circa 22 milioni viaggiano in internet ogni giorno e allora troviamo anche il beneficio, facciamo un percorso utilizzando questi strumenti per raggiungere più persone possibili con informazioni di loro interesse. Il mondo dei giovani in modo particolare? Il mondo dei giovani e dei meno giovani perché ormai tutti sono pronti o possono essere aiutati con mezzi semplici per poter essere informati e l'informazione rimane fondamentale quando abbiamo a che fare con tante persone. È un sistema che laddove ci sia un'informazione importante per l'utente lo cerca mentre tutte le altre piattaforme prevedono che sia l'utente che cerchi l'informazione. Per cui è un sistema intelligente e non invasivo che in maniera se vogliamo anche banalmente gentile tiene informate le persone sugli eventi che stanno attorno a loro solo sugli eventi che lo interessano come ad esempio la comunicazione istituzionale della ASL. La comunicazione è importantissima sempre più la gente è affamata di informazioni informazioni che devono essere più corrette e istituzionali possibile ecco perché è uno strumento che risponde a quelle che sono le esigenze di una comunicazione rapida e incisiva nei confronti della popolazione è uno strumento che è usato anche da Federfarma. Grazie a tutti!